Dal 28 al 30 settembre a Vibo Valencia, presso il Palazzo dell'Ex Collegio dei Gesuiti, si svolgerà Innovamenti Festival dell'Innovazione, organizzato dall'Assessorato Comunale di Innovazione e con il chiaro intento di rendere protagonisti soprattutto i ragazzi e le grandi competenze che stanno acquisendo in una scuola ormai da tempo proiettata al futuro. Il festival è articolato nelle tre giornate con le mattinate che vedranno in parallelo i panel all'interno delle sale e convegne e le dimostrazioni delle scuole nel cortile dello storico palazzo, mentre nel pomeriggio si proseguirà con dibattiti a più voci con i vari protagonisti della medicina, della cultura, dell'imprenditoria e dell'arte. È un festival che abbiamo fortemente voluto sull'innovazione, innovazione intesa a 360 gradi, quindi che tocca tutto il mondo della sanità, dell'agricoltura, passando per la cultura, passando appunto per la digitalizzazione e passando per tutti quegli aspetti che ormai sono primari nella società moderna. Vediamo oggi parlare anche attraverso i fondi del PNRR, su ogni parola c'è il termine innovazione. Il festival è stato voluto appunto per fare capire alla cittadinanza pibonese, ma non solo, perché ovviamente ha una risonanza a livello regionale, l'importanza dell'innovazione e quindi come l'innovazione può aiutare le persone nel mondo odierno ormai, ma anche che verrà. Vede come suo punto di forza innanzitutto lo scambio delle competenze e l'interazione soprattutto con il mondo della scuola, con approfondimenti tematici e soprattutto anche un mondo di interazione, di scambio di idee, di opinioni, con la parte politica a 360 gradi naturalmente.